ragazze e ragazzi buonasera a tutti la farà camminata figa questo ma se siamo ricollegati disfunzioni con connettive connettive della connessione se non sappiamo proprio sul più bello si infatti c'erano coordinati bene lui scassinava io uccidevo roba dove vai perché vai di là e di qua no no è di qua no è di qua ma che di qua vabbè damosi dai e questo 8 vedi a giusto noi facciamo come abbiamo fatto prima dobbiamo mandarli tunnel nei tunnel ecco non c'è un sacco di gente ma tutti immagini che c'è aspetta aspetta c'è un po dei coltelli davanti ma che si faceva così c'è un po dei coltelli arancio l'ho finito ti rifà creazione e ti piace piace questo falò e no ma non vale perché hai fatto il falò come hai fatto il falò e mai scusa ma come si fanno di modo che in un po ma no l'ho trovata allora però ci sono ancora troppi aspetta aspetta che sto facendo i coltelli d'arancio ma non dovevano essere pochi mi scusi aspetti o ma i coltelli d'arancio sono le tali avanti a vado la darei vada lei si spetti a vada vada ok faccia poco casino faccia poco casino è poco casino è che voglio aprire sta porta è aperta qui ok aperta aperta io mi vedo sperando che non ci seguono qui no ma giù de culo ok queste eccomi eccomi ci sono apiti apiti spetti spetti gli armadietti spetti bene non abbiamo tempo si ricordi vero c'è roba e lo so facciamo miglia ma che usa questo facciamo abbiamo pure qualcuno è tanto tanti tanti ma che risulta sì ma mi perdoni e tunnel tunnel c'è siamo già a due minuti e 50 attenzione attenzione mangiamo i funghetti io qualche funghetto ce l'ho aspetta eh anch'io anch'io ah ma qui aspetta poi si incastra sto cretino qua ci stanno i funghetti pure aspetta che mangio qualche funghetta a sto punto eh scusami eh mangia mangia i funghetti mangia i funghetti sì ma quanto aumenta di poco eh non molto eh e come fa a mangiare i funghetti scusa eh cambia al posto della medicina metti ah sì sì messo 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 capirai sì infatti qua c'era uno in piedi zitto state zitto ah eccolo uno si è alzato? uno si è alzato sì dobbiamo farlo fuori io sono andato eh ce n'è più di alcuni io ho solo sei funghetti però eh il nostro problema è un'unità bassa capito ma cioè posso dire dai che qua ci stanno altri funghetti ah andiamo a cacciare un po' di funghine ecco però io faccio fuori questo e tu fai fuori quello aspetta aspetta ho trovato la molotov per dire ma niente mentre tu prendi la molotov io ho fatto fare tutte e due non è che c'è pure per me la molotov unità basse unità bassa una molotov anch'io perché non possiamo ammazzarli tutti sto arrivando sto arrivando c'è una cassa qui c'è una cassa verde vuol dire che c'è roba bella è rossa è rossa verde verde è rossa la chiusura è verde eh ti consenta commenta oh prendi tutto si si è preso tutto è tutto damo se damo se ho solo 4 ho solo 4 funghetti io eh io 6 adesso 5 pillole pillole oh guarda che ci abbiamo qui c'è un infetto è aperto aperto sacca detective 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 c'è un sveglio mi pare che io devo stare con l'ansia qua c'è poi ansia ecco zitto zitto tacci stracci tua dio mi abbassa mi abbassa mi sono giocato le balle cioè eh mangia 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 funghetti lì ci stanno mangia funghetti dove dove avanti avanti ah eccolo occhio che c'è pure un infetto a sinistra c'è borsetta borsetta secchio della monnezza bianco due svegli due svegli due svegli ma no stai dormendo aspetta 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 ok l'unità passa tanto per cambiare a questo caso sveglio sicuramente ci vedono spero chissà funghetto ci hanno visto strano a meno male che ci stanno questi funghetti eh infatti andiamo avanti andiamo avanti c'è ansia c'è io non posso guardare in giro mi dà fastidio eh non so quello mi dà fastidio pure a me eh spicolare prendere roba vabbè dai qualcosa stiamo prendendo però è morto è morto è morto sì sì ok cioè questi erano erano punti cioè se non avevamo l'immunità eh oh eh sì infatti cioè li ammazzavamo tutti oddio c'è proprio uno qua davanti olè oddio uno mi sta attaccando mi abbassa mi stanno attaccando giusto che stavi facendo scusa tanto per capire che non arrivavi no stavo ammazzando se sai aprire i funghetti si se aprire i funghetti qua ci stanno altri funghetti eh aperto la cassa aperto la cassa occhio che ci sta sa bene uno ok c'è roba interessante io piglio tutto lo so due funghetti io quattro dai gli diamo se che modo non ne so che usciamo eh eh speriamo cioè non è che posso sta qua tre anni allora allora non c'ho da fare qua dobbiamo andare vieni qui qui qua qua qui eh sono entrato eh sono entrato un trappolio ma no ma c'era c'era il sentiero ah vabbè io non ho visto io questi li salto ho delle delle lampade oh andiamo andiamo uff figata pazzesca adesso stiamo qua basta tutto il gioco dai diamo qua c'è bastone chiudato medicina dove va dove va recupero un attimo ah qui non mi recupero perché va che non funzionano più pare dai vieni qua andiamo 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 l'ansia e calla e sono cazzi nostri infatti c'è bisogna sconfiggio io mi butto io mi butto mi butto ci sono zonboidi hai detto vigore basta è uccisa si si che ha dato è qualcosa vediamo trofeo e 19 dollari questa cippa vabbè ah vabbè scassiniamo si sbrighi un attimo ah qui non c'è niente dammi qua c'è qua c'è un bidone ecco uh che figata arriviamo fiato allora qua mi sa che se va su non ti perde niente ok hai visto che ce l'abbiamo fatta senti senti che sollievo che è eh hai visto avete visto qua c'è un zecchio ma se va bene vabbè qua ma si facciamo casino tanto bonus not dai vediamo se c'è qualcosa ecco non credo che ci sia pericolo anzi qua si può pure dormire no ti va aggiornando apri il condotto si stavo guardando un attimo se c'è roba condotto ed è qua dai ma così ammazzate ammazzate where did he come from he was wandering through the tunnels fucking bizarre riffraff more like a renegade buy doesn't look like a renegade he's awake what were you doing at our base i'm only trying to get to the city center the center the tunnel's gonna be closed until you hand over Lucas's killers bizarre scum how is it that you lot saw nothing heard nothing and you managed to forget about the ban on passage maybe we'll start punishing you by cutting off your hands that would improve your memory huh what were you doing four days ago i'm a pilgrim four days ago i was a hundred kilometers away enough anderson we need the truth and you won't get it through coercion but commander Lucas is dead and now i'm in command you've read the reports a pilgrim appeared in the bazaar yesterday looks like he's not lying leave us sergeant i want to talk to him alone where did you come from from crossdale river that's over 1500 kilometers from here it's actually more than 2000 the freeway bridge has collapsed there are no straight paths and you managed to make it so far away impressive what's it like out there these days eh eh da quanto non esci perché dovrei quando è che non esci dalla città mi sa tanto come on when was the last time you were out of the city about 15 years ago then there are that many fewer survivors and that many more infected stands to reason most people endure living in this hellhole because what's out there has got to be so much worse my wife and i lived in england i had two sisters two brothers haven't heard from them for 10 years where did they live in and around london Perchè dovrebbe aver ucciso qualcuno? 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 Perchè dovrebbe aver ucciso qualcosa? Perchè dovrebbe aver ucciso? 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 Posso provarci o le mie cose da sbrigare? Posso provarci Non rinforzare il miglioro D'acquittà Ma non rinforzare Non rinforzare Non rinforzare Non rinforzare Non rinforzare Ma se tu poti trovare i lazarus Lo dimenti Tu poti essere l'immagine Prima di essere la prima Quando giustizio è reale Non è un po' nessun ucciso Non ho un altro ucciso Spero come back empty hand it good luck abbiamo fatto il vino il lavoro sporco se ma storico a lui già forse mi piace di più degli altri risoluto severo ma ha chiesto ha chiesto una cosa noi abbiamo detto ci proveremo però anche detto non tornare a mani vuote ma lo prendo io e il tirapugli no quando io ma dobbiamo andare allora possiamo parlare con questo però è i haven't seen a uniform like yours before i'm a carrier a carrier what's that i belong to the carrier's guild i'm one of many if there's so many of you why haven't i seen your uniform before we're discreet we're entrusted with valuable information and therefore keep a low profile now your profile isn't so low right now indeed our headquarters are located in the center and the only passage right now goes through the subway tunnels the peacekeepers control the passage and aren't letting anyone in or out of the center right now until they do i'm stranded that sucks especially since i'm in need of some information i can't help you we have a strict code of confidentiality only our guild master would be authorized to share information and then he's the one i should talk to any other ways i can get into the center not that i'm aware of on the surface the border of the center is a no man's land it was devastated in a chemical attack cutting this district off from the center the air and ground are poison only the most freakish of monsters can survive there damn well i'll have to find a way somehow good luck un corriere quindi un corriere tipo ups tipo e si aspetta un attimo uno spippola la mappa ecco bisogna parlare con questo hey man where could i get some food in the canteen we have a canteen and a hospital in our base like in the army not like in the army this is the army we're bringing order to this fucking chaos and who are you pellegrino pellegrino i'm a courier i travel between the zones pilgrim and you got it and it takes balls to wander off road like that ok vabbè 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 grazie grazie tante noi si diamo ma che è notte ah no eh no non credo eh salve secondo me arriveremo ad un certo punto dove dovremo scegliere tipo la fazione con cui schierarci già dalla mappa si vede di simboli vabbè intanto andiamo no si si andiamo 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 come incontrare mister da ciccio qua uè ciccio uè dove ti eri cacciato eh capito capito Part-time fence, full-time scammer, and artless one, too. He's got half the city after him for death right now. If anyone in Villedor is fool enough to buy a peacekeeper weapon, it would be him. And what's his name? Hubert Corbazos, also known as Half-Ass Hubie. Every day he sets up shop in the nearby windmill and waits for customers, probably selling booze and weed to the Piquets. If you want to find a Lazarus, talk with Hubie. I'll chase down some other leads. Okay, let's keep in touch. Skip in touch, eh? Attenzione. Ehm... Quindi, obiettivo aggiornato. La dove ti rappogli. Vabbè. Vediamo se della allora. 133 metri. C'è anche un mulino. L'abbiamo già sbloccato, questo mulino? E non so. Dove siamo, Pet? Ah, no, 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 no. Qua siamo in una zona... Lo vogliamo sbloccare? Sblocchiamolo, se abbiamo abbastanza vigore, non so. Ah, no. Ne sa di no. No. Andiamo. Dai, questo sembra facile, dai. Sembra. Vediamo tutte e due, vediamo chi ce la fa. Ecco, io già non ce l'ho fatta. Ma chi è che parla? Eccolo lì. Aspetta. Sei arrivato? Quasi. Aspetta. Adesso. E qua. Oh. Ok, attiva. Io ti aspetto dal tizio, eh? Sì, sì. Ecco. Anche se presumo che adesso mi farà scende. Qua abbiamo aiutato i pacificatori. La uniforme è da loro. Nazza, come sparaflesha. Ah, è vero, è vero, è vero. È vero. Sì, poterà farlo chiunque, comunque. Voglio un avvento di guerra. Parcours, più 500. Aspetta che io già che sono altre strutture dei pacificatori sono state sbloccate nell'area. Su, c'è. Su, c'è. Io ho... Metto un attimo a guardare, già che sono in alto, magari, non so. Sì. Su, dopo, qualcosa. Io, infatti, volevo vedere un attimo... Vabbè, ma sono una cogliona. Ecco, c'è l'ascensore. Uli. Allora, andiamo a portare. C'è l'elettrica. Ecco, volevo... Non c'è la scala qua. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Aspetta. Eh, non lo vedo. Ma lì c'è un mulino. Allora, mi faccio vedere un attimo la mappa. Ah, guarda dove siamo finiti. Hai capito. Eh, però di qua, vedi? Tutti noi fanno le missioni secondarie. Eh, dobbiamo fare anche le missioni secondarie, commenta. Si sono sbloccate, hai visto? Eh, sì, ma partiamo dall'inizio, però. Certo, dalla prima zona che questa qua. Dalla prima zona, sì. Niente, qualsiasi cosa ci sia, non riesco a sbloccarla. Vabbè, qua ci abbiamo anche... ...un tizio che vende. Scusi, non ho trovato un'altra via per venire da lei. Ma io sono sceso adesso. Ma dobbiamo andare da questo. Che mi ha pure detto, lo so che sei qui, cosa credi? Ma io ci sono venuto apposta, deficiente. Ma io, questo è proprio gratino. Non lo sa che io sono sbarazzino. Sì, sì, per carità. Vendo oggetti preziosi, aspetti, ecco. Ok, ho venduto qualcosina. Aspetta, dove sei? Ma come è salito questo qua? Io non l'ho capito mica. Eppure io che sono salita là. Ok. Parliamo con questo cratino. Parliamo con il tizio. Oh. Oh. ... No, non mi. I'm waiting for Hubie, too. So, get in line. Got it. No one'll be here? Maybe in an hour. Maybe two. You never know with old half-arsed. That said, he's got the best moonshine. So, worth the wait? Nothing to do but wait, I guess. E' un pisolino, so. Oh, intanto si fa buio, scommetti. Ah no, so, ah no. Eh, ma perché scappa? Da, mo' tocca. Ma non tocca un seguillo? Prova il ladro e tira. Eh, sì, ma che c'è tempo. Ma come c'è il tempo? Eh, guarda. Ho visto. Eh, prendi Hubie, sì. Eh, faster, faster sta cippa. Aveva esser avuto il rampino, magari. Sì, 59 secondi. Prendilo, Leo, prendilo. Prendilo, sei tutti noi. Dai, ma va velocissimo. Non è impossibile. Vabbè? Vabbè? Ho perso, abbiamo perso. Ah, su questo. Porche mo'. Da dove si passa? Prova? Ah, forse. No. Oddio. Dobbiamo. No. Oddio. No. Ah, ecco, ecco. Qua, qua. Eh, solo in quel vigore. Te saluto. Oddio. No, vaffanlò. Ma che mi sono castrata? Ma che c'è la scala? C'è la scala, Leo. C'è la scala dietro. Oddio. Oddio. Mo' però qua dobbiamo andare su. Su. E poi... De là. C'è la scala. Sempre dietro, eh. Poi, poi. Saliamo qua. Qua. Un attimo. Eh, find him sta ceppa. Io non so dove dobbiamo... Ah, di là. Oh, ho un punto abilità io, eh. Parkour. Aspetti che lo spendo. Ah, ma aspetta un po', perché pure io ho fatto punti. Eh, abilità. Ah, no, ho fatto una ceppa io. Sì, prendo questo. Presa salda. So per fare il parkour anch'io, però, eh. Io lo dico. Stai entrando in un'aria invalidabile. Eccolo, eccolo. Ah, vai tranquillo. Eccolo, eh. Perchè si è scappato? Eh. Come fa a sapere? Il lazaro è un tirapugni. Ah. Come fa a sapere? Come fa a sapere? Come fa a sapere? Allora, tutti knew about Lucas' little glove glove. He was always showing it off. If anyone thought I had it, they might also think I killed Lucas. Which is bullshit. And for someone trying to sell it to you, right? I told you, I... Ok, fine. Maybe someone did but i can't say who. Client confidentiality. Her name is Maya i met her in the tenement building at Meatpacking Square near the old butcher shop but i don't know anything else. Leave me alone. It overlooks some army barracks or some shit. All right i can find that. Aspetta un po', apri con una chiave di accesso al gre Qua possiamo aprire noi Prova un po', proviamo Aia Sei pronto? Vogliamo provare? C'è qua dentro, scusa C'è roba buona, però ci stanno pure gli infetti, eh Non so che tipo di infetti ci stanno Vogliamo provare? Stai entrando in un'area invaricabile, che vuol dire? Trova l'inibitore Oddio Oh, oh, questo è livello 2 Torna di notte quando gli infetti sono per strada Stai buono, stai buono Qui non li possiamo manco far uscire, però, eh Che ci ha visto? Sì, è una zona nera, eh Che vuoi fare? Ne vogliamo provare o no? Io non so quanto è grande, eh Io c'ho quattro funghi, tu? Oh, ma che è? Io ne ho uno Però c'è il fuoco C'è il fuoco Olè Ma mazza, mi ha fatto malissimo Sì, mi ha fatto Eeeh Dozo, sono morta Sono morta Ma tu pure Sì Ma te credo Ci stanno i notturni Ma lo vedi? Oddio Vabbè, mi suicido Ci stanno i notturni Vabbè Mi tornerai di notte Mi tornerai di notte Mi tornerai di notte Eh, però Secondo me Dobbiamo dedicarci Eh sì A questi cosi Certo A queste cose Sono sto vigore Va a farsi benedire Eeeh Va Mi butto Ah, qui Mi butto Ecco Adesso io fra un po' Mi butterò Per quanto mio Perché Mi ha il vigore Ma dove sei? Ma Ma Qua Ma E qua Là Che culo Posso dire? Ma mi è andata di lussa Proprio di lussa E dai E questi Eccomi Aspetta Il miele 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 Funghetti Funghetti Cavomila Cavomila Non so Qua è pieno di funghetti Oh Aspetta Eh Va Vero Va Vero Lavanda Ancora Lavanda Basta Ah Pure qui Miele In alto Più o meno Vabbè Cerchiamo Maya Non so Sì Cerchiamo Maya Spazio Buio Attività Nottorna Ho capito Tutti Guarda Che ho trovato Murale Vuoi? Eh Trovo un murale Ma che me gli dà come nemici? Non ha fatto niente Ma 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 che cosa stai facendo? Eh Ho ingaggiato un Ma 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 che fare? Alle spalle Avete visto? Sento Ok Poi è morto così Posto Posto No Qui c'abbiamo Qui c'abbiamo il libro Ah qui c'abbiamo il libro Da leggere Ah aspetta un po' Accomodati davanti al falò Proviamo Ah Non l'avevo Non l'ha notato Ma te si è accomodato te Io do ma comodo Ma il morto Eh ma Che cosa serve sta cosa? Forse per ripristinare la salute Guarda un po' Se ti sale Eh a me ce l'ho già al massimo Sì ma noi siamo in due Ma te puoi mettere seduto solo di Ma fatemi capire Cioè Posso dire Prova a sederti te Prova a sederti te Sì che io ho perso la vita Vediamo un po' Eh se te levi Oh 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 Prova Eh non muovo Aspetta Vediamo Ecco Ah sì Mi si è la vita Vedi? Sì Eh molto lentamente però Vabbè intanto vi faccio una biretta Faccio due viacchiere Un fuoco curativo questo Un fuoco curativo Sì un po' Tipo Come a Dark Souls No? Sì sì Eh mi farò Vabbè grazie è stato un piacere belli eh A posto Ricontro non ho riuscito Con chi? Ma che ne so Vabbè Cos'è questa sirena? Questa è una sirene Boh Forse preannuncia la notte? Ok so Siamo qua Qua dove? Qua Ma chi? Signora Non urli C'è gente che dorme Eh signora Ma spiangi o urla Non capisco Mi sa che c'è una ragazzina Io sento pure Aspetta Aspetta It's mom Senti? Ah qua c'è Aspetta C'è Ah Chissò Corso militare Ah forse abbiamo già preso Su su guarda su Sì sì ecco Ma qua non c'erano già stati No 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 Sennò questa cassa qui era vuota Saranno tutte uguali eh No Qua non c'erano già stati che non eravamo durante una missione principale Sì votarsi Ci sono i ragazzini dobbiamo parlare Dai Sì 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 Dove l'hai trovato? L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato How did you get a hold of a peacekeeper weapon? We all found it Was wondering around with these punks and ran across a corpse Happens a lot He was totally dead We searched him And I took the brass who's a watsits cause I figured someone would pay a pretty penny for him I mean l'azzo Maya I need that weapon It's very important Ti aspetti a me di mandare il Brass Hoosie Watsit? Sei freddo? Il nome Hoosie Watsit è Lazarus e si appena ad un'importante PK. Potremmo avere una guerra se non lo ritorno. Potrebbe aiutare a trovare un murdero. Ok, ti darò questo stupido, ma per 500. Io dico tratta. Ma non c'è tratta. Si che c'è, ce l'ho, io tratta. Io non ce l'ho tratta, io sono solo non pago. Ma come? Eh, giuro, non ce l'ho. Vabbè, diciamo non pago. Eh, sennò prova di tratta. Tratta. Prozzi. Ovviamente è. La vita è davvero costante. Ho bisogno acquistare l'acqua. E un marker per il mio fratello. Si è diventato 12, sai? Posso darvi 10. E' la mia ultima offerta. Dio! Niente ha voluto acquistare comunque. C'è ma dieci monete? Eh già. Sì. Dieci monete è regalato. Eh, vabbè, da 500 insomma. Appunto, ce ne do dieci. Eh. Che trattazione, c'è. Beh, farà affare questa qui. Non ce l'avevo, tratta eh. Non ce l'avevo, questo è un altro bug. Eh, io sì ce l'ho, non ce l'avevo. Beh, meno male che sei il grand master. Sì. Sì. Vabbè, quindi? Sì, vabbè. Sì, vabbè. Vediamo la ceppa. E lo troviamo vicino alla stazione. Allora, da là, da là. Oddio. Ci arriveremo. Sento già. Sento già. Ma non so. Anomalia del GRE. Cos'è sta roba? C'è un boss? No, come un boss. Ah, guarda, guarda. Sì, sì. Lui, lo vedi? Oh, madonna. Va a vedere. Vabbè, rivello 1 però, dai. Sì, ci proviamo. Proviamo, proviamo. Eh, ci ricarichiamo un attimo. Ci ha visto. Sì, dove ce li carichiamo però? Eh, boh. Eh, lì, guarda, lì. Lì, lì. Dove? Là. A sinistra, a sinistra. Ah, sì, 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 sì. Oddio. Ho fatto un salto troppo... Troppo saltoso. Troppo saltoso, sì. Eh, magari sono punti, sono punti. Cioè, sicuramente sono punti. Poi, ci abbiamo, diciamo, la ricarica è proprio piano spudo. Ok, qua ci ricarichiamo. Venga, venga. Eh? Venga. Non posso. Sei? No. Non lo sei. Torna sotto. Venga su, venga su. Eh, sto provando, ma adesso è ingaggiato... Un primo qua, con dei vizi che sono molto affettuosi. Oh, l'arma è distrutta. Sono caduto. Questo... Oh, si è bugato. Come hai fatto ad arrivare là sopra, da qua? Da qua, qua, guardi. Da qui. Aspetta che io devo cambiare pure l'arma, eh. Ecco, hai visto. Oh, t'ho visto, t'ho visto. Oh, allora, senti, aspetta un attimo che devo fare... Sì, sì. Devo cambiare l'arma. Allora. Inventario, inventario. Io ne ho un po', aspetta. Ah, quando si rompe, ti si leva proprio, vedi? Ah, almeno se... Se ne è mai rotta una. Ma qua c'è già. Eh, che ci metto qua? Ci metto questa. 27... No, aspetta. Eh, qui ci metto questo. Ok. Allora io ci sono, eh. Sono proprio. Ah vedi. Eccolo là. Eccolo là. Eccolo là. Però ho paura che non c'è solo lui. C'è solo lui. Vediamo, eh. Ci proviamo, eh. Ci proviamo. La nomea del gr... La nomea del gr... è il covo di un re di vivo, un potente infetto che distrugge la zona e rianima a chi gli sta intorno. Per affrontare il re di vivo devi entrare nell'area dell'anomalia del gire di notte. Dopo aver sconfitto il re di vivo si apriranno i container military nelle vicinanze poter rubare i inibitori presenti. Ok. Ci serve. Ci servono, no? Eh sì. Allora... Signore di vivo. Ah, ma tu sei sceso già. Eh... Lancio. L'ho preso. Io li ho tirato un po' di... Ok. Abbiamo un solito problema, eh. Dobbiamo un attimo. Ah, qua ci abbiamo... Ci provo, ci provo, dalla distanza. Dalla vicinanza, cioè. Ok. Forse non era un momento... Posso fare... Ecco. Lasci fare... Si faccio... Ma che fa? Ma che fa? Ma che fa? Cato fuoco. Allora tu... Ehm... Faccio un attimo una polizia perché stanno uscendo... Un boi di... Beh, dov'è? E' dietro. 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 E' morto. E' morto? E' morto. D'aiye! E' morto? E' varia che ci è più nessuno, no? Ok. Ho fatto la sorsa artigianali. Questo è morto seduto. Vediamo. prendiamo la ricompensa dai dai ecco qua a inibitore cappello da dottore che altro c'è qua c'è una cosetta formula immunità ora tutto buono e armaglietti c'è roba ma non apre chiudere ma io non chiudo lascia aperto scusa mi prendete faccio giudo allora avevo visto male mi scusi scusi ha capito tutto monità basse monità bassa maggio un funghetto no no i funghetti dobbiamo tenerli qua ci abbiamo abbasta non c'è guarda lì forse no aspetta io sono immunità bassa no non si entra qua forse si entra qua sotto o no ok a vedere scusa non ne ho presa abbastanza però mi sa di inibitore infatti me ne manca uno per salire di livello bene quindi adesso salgo vengo anch'io a ricaricarmi metto un punticino c'è il punticino da mettere no 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 niente niente vabbè perché ce ne servono tre eh sì ce ne servono tre capopazza ma io ho fatto un punto parkour ma non me lo dà stiamo scherzando è tutto pieno io raccolgo miele eh intanto sì dove ho raccogli il miele anche i funghetti ho trovato il cordyceps oh che cos'è il fungo di delastro vasto ah dai quindi c'è quel virus quello che sta qua lo sai come si chiama eh si chiama THV virus quindi è mischiato con quello di delastro vasto ah no è un easter egg ma cosa ma cosa te lo dico io circa questo è molto male la lavanda hai preso la lavanda? la lavanda l'ho preso l'ho preso ho preso anche quella bravo basta non c'è più niente ma dove stai andando? ma non lo so si approvino di notte si approvino di notte eh si approvino di notte dico eh sì 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 facciamo punti facciamo punti c'è un punti facciamo punti lo sento pure io oh qua c'è uno che deve essere salvato lo salvo lo salvo lo salvo ma che muoia miscela immunizzante o funghi miscela oh ho trovato oh vedi ho trovato una cassa inibitore eh venga qui con la resistenza all'elettricità arrivo venga qui venga qui dove sono io arrivo arrivo aspetta adesso all'inibitore dove lo mettiamo alla salute magari stavolta anche se il vigore serve non so vabbè mettiamo salute dai mettiamo salute ma facciamo vigore dai sì allora ok salute 5 minuti e 58 ma io ti dico che ho fatto il punto parkour è tutto pieno ma non mi dà il punto posso dire ah no magari manca un ciccinino ma cosa è ciccinino mi consenta ma sei uscito? sì quando muo dici ah mi faccio un po' ripristinare qui che no venga su venga su ma qua c'è aspetta c'è un simbolo aspetta mi devo ricaricare aspetta qua c'è un simbolo pisco sarà una ah no pensavo che avevi visto questo ma qua c'è sicuramente una missione sì secondaria no ma ho visto cos'è carnella brace è il pane sana fa che sana fa si capisce sparaflesha troppo che avevi visto? e no ho visto ah qua c'è qua sotto ah c'è un infetto speciale aspetta 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 lo distraggo tu vai giù e lo finisci di uccidere capito? sì 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 facciamo una cosa coordinata l'hai già ucciso? no vado eh sì vai vai continua continua vai 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 eh l'ho morto io praticamente eh sì oh punto abilità parkour vedi ti ho detto che mancava pochissimo ah la faccio il pugnale gli ha tolto tantissimo hai visto? salto di atterraggio o ma io faccio prisa salda ah però forse alla fine andare fuori di notte cioè non è così un dramma forse come pensavamo eh c'è una coppa sul morto? sì sì prendi prendi ah tu preso cioè con il fatto che ha messo comunque queste luci UV un po' sparse ovunque magari si hai quella l'ansia di non farcela ma la sto facendo ho allertato un po' di gente senti senti ho ho tirato una bombetta una bombetta eh eh qui si incazzano subito io non lo so ho fatto fuori un po' di non so parliamo con sto tizio eh dai sarà una missione secondaria sì eh you got a problem a problem pilgrim you gotta help me I'm in deep shit real fucking deep if you don't help me that bald thug my uncle will beat me and he's got hands like cast iron frying pans the last time he hit me I had a lump on my forehead as big as a horn like some fucking rhino andrà tutto bene ma come non ci ha fatto dire quell'altra aspetta aspetta ok perché ok ok ah lo so mi spiace tu devo portarlo eh si c'è ma di notte ma è troppo con le più notte sfida data di scadenza boh seguiamo questa eh si dai 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 ormai ci stiamo scoperto sfida parkour ah no è una sfida no 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 questa è un'altra cosa aspetta eh no allora dobbiamo andare mostra sulla mappa a meno che è questa vuol dire vuol dire che è questa no io vedo un po' scusa ma quella che sta a 85 metri che è allora fammi vedere la mappa segui aspetta ah si è questa qua è questa qua ah è proprio questa è una sfida vabbè ma che si mette ma fai sfide no ah sfida parkour aspetta rimetto no perché non me l'ha preso cos'è ah questo ok qualche ricompense da non dice manuale parkour ah poi è una roba da vendere ok vabbè vogliamo portare il coso a a chi il come si chiama il tirapugni no ah il lazaro si poi perché suscita i morti beh cazzottino ci stanno queste bombole in questo timeline 2 ci sto caruccia hai visto prima ho tirato una si ho tirato una perché ce n'era un'altra vicino salve che è dove qua ah ah madonna non l'ho visto eh sono un po' cercato eh ma da mo' lo so salve salve siamo sempre noi i corrieri ah the pilgrim has returned i hope not empty-handed i found the lazarus i'll be damned cos'è quel tatuaggio ecco dai fammi andare in centro i did what you wanted it's your turn get me to the center opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade pilgrim command wants me to find the killer aders you promised cool down pilgrim i keep my promises first take this token of gratitude ader i have to get to the center get it you're looking for someone right i want to go to the central loop too my wife and kids are there and i can't protect them when i'm stuck here the tunnel will open when i find the killer is that clear you can help me or you can wait until i find him myself i see traces of blood on the lazarus's blades lucas managed to wound his killer before he died and that's why i want to discover the truth before the orders come down to use force besides appearances can be deceiving they want to get rid of us they think anarchy is the key to building a new world well there is plenty of anarchy these days carl is a faux pious hustler who brainwashes others with slick speeches he says everyone's equal but it's bullshit you can't be a leader and an equal at the same time but i'm not sure but i'm trying to find lucas's killer splendid that's your ticket to the center head back to the bazaar is there anything else i should know before i go yes as a matter of fact but this is totally hush-hush word of this cannot get out sounds serious whoever killed lucas took a little trophy carved his tattoo right out of his bloody arm they cut into his corpse that is seriously fucked up yeah seriously men found out lucas was desecrated like that they'd lose their shit and it would be total war i'm telling you this because if you find that little trophy then you found the sick fuck who killed lucas got it I'll head out right now ma che gran macello ma non so possono do da soli cioè sono un sacco di gente noi da soli dobbiamo si vediamo da fuori non sentiamo niente eh tutte queste dispute queste antipatie simpatie rimbischiati in qualche non so ma sì è questo che ci manda sempre a noi non parla mai in prima persona questo secondo me alla fine c'è la mettendo il posto sì infatti questo che fa no qua qua no qua Ader wants me to find lucas's murderer only then will he help me get to the center not doing his dirty work well that's no surprise he told me to start with the bazaar figures pk and the bazaar really hate each other only two people matter at the bazaar one is that overblown preacher carl I know that who else is there sophie his right hand she has a way with the bazaar's more rebellious souls helps him keep control there's also dodger a local gangster he knows what's going on and about the bandits let by joe but they're afraid of the pk ok I'll talk to sophie and you look into carl unless you prefer the girl sophie she's not really my type you know and headstrong she's you'll see vabbè noi ci dobbiamo occupare di sophie allora come sarà sta sophie cattive cazzuna chiedi a sophie di lucas va bene ma direi che possiamo sì ci fermiamo qua sì sì ci fermiamo qua sotto la luce ho visto sì eccoci eccoci ci abbronziamo sì io ho acceso anche la luce torta sono in 639 non si vede quando lei è acceso ah no non vedi no no strano vabbè perché così si vede meglio sì io mi vedo bene in ogni angolazione va bene dai va bene ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti